ciao a tutti bentornati in questo nuovo video vlogmas numero 7 oggi è stata dicembre ci sono i ciwi che è sempre in movimento e fermo di là c'è anche Nicola perché oggi Sant'Ambrogio è la festa del padrone in Milano e quindi oggi non lavora e si trottola non la lasci neanche cinque secondi libra mi qui guarda cosa stai facendo levati vieni qua vieni vieni chi sbatti il culo addosso vergognati ciao Italia ciao a tutti da Fulmini benvenuti al vlogmas ci vuoi noi togli questa zampa dove non devi che c'è l'hai già mangiato si 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 l'ho mangiato l'umido l'ho guarda come guardate come maschilista guarda che si sbatti addosso maschilista se non ci vuoi maschilista sei ammazzati 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 senti i slecchi che ho lavato le mani prima ho lavato le mani prima ho lavato le cuccoline coccole 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 cuccoline ci vuoi una cuccolosa e si 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 intanto c'è papà di là che cucina oggi cucina papà si 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 oggi facciamo cucina papà lasciarsi solo io qui sul canale fulminesi quella cimorricchia chi c'è? chi c'è? chi c'è? chi c'è? chi c'è? chi è papà? vai da papà ma poi ti farei male salutiamoci vediamo dopo ci vediamo tra poco eccoci tornati sto facendo il film con i piselli adesso facciamo il sugo per domani faccio il sugo perché domani faccio la pasta che ho comprato all'U2 perché poi ha fatto l'U2 gli annelletti gli ho pagati 1,59 all'U2 l'ho visto poi anche al Carvur si vende solo biologici quindi senza mezzo chilo poi c'è un altro quindi un altro mezzo chilo quindi totale 1 chilo due insieme domani volevo fare gli annelletti al forno che è della mia terra madre cioè terra madre terra dei miei gintori la Sicilia mi faccio gli annelletti al forno quindi adesso da poco molto su mettiamo su insieme vediamo se ci riesco non è che ci vede molta ok poi va a riporare ok il fuoco è basso il basso se lo vedete non si vede molto dove c'è Nicola Gila che giocano se si credo e una sola umana mi lasciamo adesso fare un pochino una mezz'oretta intanto la tengo qua dietro le piante di rosmarino e basilico le piante al mercato sono già lavate le piante così fa un po' di sapore in più proprio dalla piantina che ho comprato al mercato 2 euro il basilico 2 euro lo giocmanino c'è un po' di profumina di succo la Sicilia confronto e spagna 7% passata rustica di pomodoro 700 grammi al lupo mi chiedete dove lo scontino perché non ho più pare di idea dove l'ho appena fatto sfidire sono le 7 e mezza di sera quindi per le 8 a tempo prima già dalle 7 e 20 l'ho messo su quindi quindi già 10 minuti con il sfogare è solo il cavalletto quindi quello che sentite è il cavalletto quello qua adesso lo lascio una mezz'oretta quindi sono messo in 20 quindi l'8-10 sarà pronto poi domani lo metto mezz'oretta perché poi domani facendo il passaggio come le lasagne che io le lascio mezz'ora poi dentro il forno si stringono si stringono come a fare le lasagne gli vengono molto buoni fate sentite sta iniziando a bollire ci vediamo tra poco e questo eccolo qua che oggi non ha lavorato fino a lunedì tutto mio che bello allora adesso tra poco ci trasportiamo la roba di qua dell'album di natale presepe che domani iniziamo a fare il presepe e mettiamo le lucine fuori che voi avete visto nei video che ho fatto martedì che sono andata a fare la spesa al micato martedì ci ritorno perché ho intenzione di coppare tutte le cose della decorazione da mettere sulla finestra che era meglio che le compravo già subito però mi serviva e avevo finito quasi i soldi me ne basti 5 euro di martedì faccio una bella scorticella ci vuol qualcuno che ha raccattato l'emosina vieni qua vieni qua raccattato di lemosina guarda il cocco di pappa l'Italia sta laggiù a me niente bacino faccio? ah dai bacino i basini basini non me ne vado adesso ora me ne vado ciao è scappato è scappato allora ci vediamo dopo bei saluti e domani qui comincia il coso il blog allora sia vlogmas cioè domani più uso il telefono per allora telefono per vlogmas con la vecchia ho tolta la telecamera quindi c'è quella da cellulare giro i vlogmas con la videocamera giro il video dell'albero di Natale gli sanno due video per lo stesso giorno vero Fulmina? guardate che ruffiano guardate che ruffiano qui è ruffiano sei vero che oggi hai fatto danno tu? no 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 non è vero sono innocente si innocente hai fatto la pipì sul divano eh? qual è la tua discolpa? qual è la tua discolpa? sono innocente io non è vero non è vero non è vero non è vero sedici bravo sì seduta si straga ci vediamo dopo dei saluti eccoci tornati salutiamo ciao questo vlogmas numero 7 finito da Italia ai fulmini da mamma e papà a voi lì allo studio ci vuoi no? ciao ciao ci vediamo domani per l'albero yeah il presepe tanto il presepe già fatto basta aprirlo e le luci fuori ciao